Dall'Inferno al Purgatorio all'ultimo secondo quando ormai il signor Cascone stava per decretare la fine del match arrivi alla rete di Andrea Di Grazia che riporta in quota una squadra all'erezzo che non meritava la sconfitta. Il calcio si sa è fatto di episodi, nel dopo partita c'è stata troppa adrenalina da smaltire e lo si è capito dalle parole del trainer Veneto Colella. Ha deciso Eupal e Di Grazia ha segnato il gol più importante della sua carriera. Nota parte il migliore in campo è stato il portiere Pizzignacco e qualcosa vorrà pur dire. E come un thriller di Dario Argento anche la rete dei padroni di casa non convince visto che l'assist per Bulevardi è stato eseguito da un giocatore che doveva aspettare per tornare sul terreno di gioco. Il primo a fondo porta alla firma di Carletti che sulla destra si trova uno spazio interessante il suo diagonale termina lato, non è passato neanche un minuto dall'inizio del match. Il Legnago però inizia a prendere campo e cerca di stiacciare gli Amaranto. La posta in gioco è altissima, un successo Veneto allargherebbe in modo letale la forbice nella zona play-out. Minuto 11, contropiede pericolosissimo dei padroni di casa. L'Arezzo è mal piazzato e si trova in difficoltà nel fronteggiare la ripartenza. La conclusione di Morselli si perde a lato di poco. Grosso pericolo, l'aggressività dei Veneti si fa sentire. Il Legnago passa il minuto 27 dopo un'azione discussa di Rolfini sulla destra. Bulevardi che ha un buon piede indovina il corridoio giusto e per sala. Non c'è niente da fare. 1-0 per il Legnago. Cambia la partita, ora l'Arezzo deve cambiare. Marcia assolutissimamente. La reazione non si fa tendere. Ci prova prima Cutolo, ma la conclusione a lato. Da palla inattiva è Arini che spizzica anticipando Pizzignago. Palla fuori di poco. Poi, dopo una percussione dei locali, è ancora Di Grazia che innesca Carletti. Il tiro dell'attaccante è respinto dal piede di Pizzignaco. Poco dopo, in un bel cambio gioco, la schiacciata ancora di Carletti vede una respinta del giovane e bravo portiere Veneto. L'Arezzo ci crede, prima del riposo troverebbe anche la rete con Cutolo, ma per il collaboratore di Cascone la posizione del capitano è leggermente più avanti della linea difensiva. Nella ripresa gli Amaranto mostrano il giusto cipiglio per tentare di rovesciare il match. Il Legnago si affida alle ripartenze, ma l'Arezzo c'è, ribatte colpo su colpo. Minuto 67, la parata da Moviola su punizione di Di Grazia. Pizzignaco compie un balzo prodigioso, ma la sua respinta regala più di un sospetto. Nell'occasione si fa male anche Carletti e Stellone è costretto a rimescolare le carte. Cutolo canta e porta la croce. Poco dopo il novantesimo, un suo sinistro dà l'illusione del gol. Sembra finita, poi l'Arete che scaccia i brutti pensieri. La palla di Sussi è il contagiri. Il colpo di testa di Di Grazia regala un punto importantissimo, più di quanto si possa pensare.